Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo delle assenze per malattia di docente e personale ATA. Ecco cosa prevede la legge e il contratto scuola. Domanda numero 1. Sono una docente con un contratto a tempo determinato e do un'invalidità all'80% con la legge 104 articolo 3,1. Avrei bisogno di sapere se ho diritto ad avere dei permessi per l'assenza da scuola per le terapie che riguardano le cure riferite alla mia invalidità. Sì, hai diritto fino a 30 giorni di permesso ad anno solare, dunque dall'1 di gennaio al 31 dicembre di ogni anno per malattia che riguardano la propria invalidità. Questo diritto è riferibile a tutti coloro a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa al 50%. Domanda numero 2. Come si calcola il comporto della malattia per docenti e ATA che hanno un contratto a tempo indeterminato? Un docente di ruolo o un personale ATA con contratto a tempo indeterminato ha fino a 9 mesi di malattia in un triennio pagati al 100%. Poi passa ad avere altri 3 mesi pagati al 90% e ulteriori 6 mesi con riduzione al 50%. Arrivati ai 18 mesi di malattia suddescritti ci sono altri 18 mesi di malattia senza segni. Per calcolare il periodo di comporto per le assenze dovute a malattia ordinaria bisogna contare a ritroso tutta la malattia utilizzata negli ultimi tre anni a partire dall'ultima richiesta di assenza per malattia. Faccio un esempio se oggi 30 di ottobre chiedo la malattia per fare il computo dovrò 30 di ottobre 2024 chiaramente dovrò andare a ritroso fino al 30 di ottobre 2021 e conteggiare in questo triennio quanta malattia ho usufruito. Così facendo avrò il computo e il calcolo preciso delle giornate di malattia utilizzate. Terza e ultima domanda. L'assenza dei docenti o personale ATA per covid-19 rientra nella malattia ordinaria? Diciamo che ai sensi dell'articolo 87,1 del decreto legge numero 18 del 2020 convertito poi in legge numero 27 del 2020 tuttora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza con il decreto legge numero 24 del 24 marzo 22 la malattia dei docenti e di e del personale ATA a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo determinato anche a quelli che fanno supplenze brevi docenti e supplenti dominati dal dirigente scolastico dalle gradatori di istituto per periodi brevi e saltuali riferita alla positività covid-19 dunque la motivazione deve essere il covid-19 è un'assenza giustificata senza nessuna trattenuta dal cedullino e senza nessun comporto però la diciamo la malattia è soggetta a visita fiscale speriamo che queste risposte alle vostre domande siano state utili a tutti voi seguitici nei nostri canali social facebook youtube e nel nostro sito www.techica della scuola.it per avere informazioni sul mondo scolastico arrivederci